vediamo se riesco a farlo io vabbè passami sta palla non riesco a saltarlo non riesco a saltarlo vediamo se ora questi qua riescono a bloccare gli avversari perché sono voglio il secondo gol l'ho appena detto l'ho appena detto è incredibile e no dai 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 credzero no credzero no dai è vero no partiamo subito così traverso incredibile ripartiamo ripartiamo dai dai veloci veloci cazzo passami sta palla no l'ho quasi saltato fatemi vedere grande dai 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 avanza aspettami a me che cazzo fai non ci devi proprio provare a fare ste migliate fra attaccano gli avversari la difesa dorme colpo di testa indietro sono tutti liberi vediamo che cosa fanno vediamo se me la passano sono libero sono libero ero libero si trova lo stesso è incredibile passami la palla tira ma che è possibile porta anna la madonna non so cosa vuole fare questo cross in mezzo che spaziamo 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 non vabbè vabbè dai e devono farci il terzo gol se non andiamo contenti andiamo a cenere via cazzo faccio pure io a fanno una vai che convincerebbe stemmi e già l'inizio non era cosa buona vediamo se riesco a ripartire da solo vediamo levati davanti si possa provare invece no invece no sto parlando a nome di tutta la squadra ovviamente vaffanculo 3 a 0 30 minuti 3 a 0 un collo in dieci minuti veloci bravi così veloci passami sta pa cerchiamo ad andare avanti e l'ho saltato dai dai è così ma non si possono fare questi errori così proviamo a ripartire dai proviamo a ripartire primo tempo 4 a 0 per loro 4 a 0 per loro è una cosa mai vista non potevamo cominciare peggio di così 4 a 0 lo saltiamo questa volta ci riusciamo benissimo e invece no e invece no arriviamo sempre allo stesso punto e ci fermiamo è incredibile guarda passate nella palla sono 1 l'abbiamo fatto dai ma il problema fare gli altri 3 gli altri 3 è quasi impossibile farlo va via gol azione bella finalmente da parte di tutta la squadra vediamo se la squadra ci fa ripartire e ci fa fare altri gol può nascere qualcosa di interessante vabbè da quella distanza però dai da quella distanza no però non ci provate a fare ste cagate qua se prendiamo gol adesso è proprio la fine della fine possiamo ritirarsi tranquillamente è uscito un messaggio sulla tv ragazzi non riesco a trovare nemmeno il telecomando dove è incredibile così però dai non è possibile dove è finito il telecomando vi giuro ragazzi ho perso il telecomando non posso la tv si chiuderà tra poco si chiuderà è uscito il televisione si spegne tra poco io non ho il telecomando adesso che è guai ragazzi che è guai non devono succedere queste cose porco demonio ragazzi sono costretto a chiudere la tv guarda sul divano sul divano c'è green screen raga non è impossibile adesso ragazzi scusatemi ma non c'è sul divano ragazzi sto smontando mezzo green screen non so cosa sta succedendo ho trovato delle cose che prima non c'erano mi giuro ecco l'ho trovato l'ho trovato ragazzi era sotto al green screen intanto la partita porco demonio sta succedendo alla fine del mondo ho finito mezza partita cercare un cazzo di telecomando sotto green screen della micia no ragazzi non è possibile questa sconfitta così però non è possibile io mi devo incazzare così io poi mi devo incazzare attenzione passatevi sta cazzo di palla porco demonio no dovevo tirare cosa che faccio ma rotto cazzo ti apre se hanno fatto un altro color raga ormai facciamo la serie di contro sto modena vediamo di vincere da questa partita per questa volta dai e che ci riusciamo dai ecco c'è un po di spazio ovviamente fatti vedere bravissimo avanziamo dai dai guardami qua guarda di qua dai tira e con ottima ottima azione da parte di tutti noi andiamo a fare un altro dai su andiamo a fare un altro vai così ma non questi passaggi di merda però fanno un'azione bene c'è un'azione bella fanno poi l'altro cione la fanno cagata non lo so andiamo ad attaccare dai vediamo se me la passa vabbè l'anno prossimo basta della che sono solo proviamo a farlo cazzo di tiro di merda che tiro di merda da andiamo a farlo andiamo a farlo fatti vedere tira 2 0 abbiamo chiuso questa partita per ora per ora perché con questa squadra non si può metter voglio farlo anch'io per il gol non voglio fare solo atti sono costretto però sono costretto così passano ma basta veloce guarda guarda il benissimo tiro e no ci provo vaffanculo di festa di merda solo con me funziona solo con me l'adoro stesso funziona grande recupero ma dai però la loro recuperata perché non te la tieni la palla porco le moniere da solo adesso loro attaccano se prendiamo col mincazzo mincazzo bestemmi bestemmi hai capito tutto hai capito ma che cazzo di passaggi mi fai non lo vedi che c'è quello davanti attenzione attenzione non voglio commentare cose brutte dammela qua dammela qua che sono da solo adesso me ne vado per i piedi centrali vediamo cosa succede vediamo se ce la faccio a farlo vaffanculo di nuovo sto dicendo più vaffanculo oggi che in tutta la mia vita ragazzi sto mandando affanculo tutto il modena guardami qua guardami qua che sono da solo questa volta buona ciao 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 ciao